Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale Bulldog Gamer, che st'oggi vi porto il gameplay di Franco Morbidelli a Miseri. Mi raccomando, se volete leggere un nuovo gameplay, inserite qui sotto nei commenti il pilota, il circuito, la condizionamento e il numero di azione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.